Fra Gianluigi, venerdì e sabato un momento particolarmente bello per la Stella Maris. Che cosa succederà? Sì, nel porto mercantile della Spezia c'è la parrocchia della Stella Maris. Venerdì e sabato ci sarà un evento presso la sede della ex dogane in Lago Fiorillo dove daremo dei libri donati dall'autorità portuale con un'offerta minima di 10 euro. Sono dei libri della marineria, sono libri molto belli. I proventi di questa iniziativa che cosa serviranno Gianluigi? I proventi, come da volontà dell'autorità, saranno destinati per la gente del mare e quindi saranno a disposizione della Stella Maris per le iniziative sociali e umanitarie che svolge quotidianamente. Ogni iniziativa umanitaria e sociale preparata dai fratti francescani di Gaggiola vedono protagonista l'Istituto Mazzini e i suoi ragazzi. Sì, diciamo che il liceo Mazzini nel tempo si è connotata come una scuola attenta alle azioni di volontariato e in particolare è da 15 anni che abbiamo avviato la collaborazione con i fratti francescani per le opere caritatevoli del convento, per la mensa del povero, per la missione in Burundi. Ecco, sabato questo momento significativo, giovani insieme ai giovani per fare un'attività di volontariato. Una bella esperienza anche per voi? Certo, comunque un'esperienza che ci solidifica anche in quanto giovani che vogliono essere partecipi in una società attiva. Infatti, per esempio, io da quando sono piccola, da quando sono molto piccola, continuo a essere presente durante la festa di Sant'Antonio qui con i fratti e per me è un'esperienza magnifica, piena di gioia, perché so che posso aiutare chi ha meno di me e posso fare comunque del bene. È un'esperienza, quella di venerdì e sabato, che suggerireste ad altri amici? Assolutamente sì, infatti il 25-26 giugno saremo a Largo Fiorillo e distribuiremo le copie del libro dedicato alla festa della marineria in un volume che conterrà oltre 900 fotografie, oltre a dibattiti sulle sostenibilità e anche percorsi didattici innovativi in collaborazione con enti come Contship, CNR, UNICEF e Marina Militare. Non ci resta che fare un invito ai cittadini della Spezia ad aderire a questa bella iniziativa che darà sostegno e sollievo alla gente di mare in difficoltà. Sì, invitiamo tutti i cittadini della Spezia di venire in queste due giornate, venerdì e sabato, dalle 9 alle 13, e di dare un'offerta per questo report libro sulla festa della marineria, di dare una donazione che parte dai 10 euro, quindi vi aspettiamo.